Avvocato, da qualche settimana l'ambiente è entrato in Costituzione. Questo che effetti ha sul mondo delle edilizie e delle costruzioni? Io credo che gli effetti saranno a breve molto percepibili. La modifica della Costituzione riguarda un primo livello di azione, che è il livello del principio. Il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e dell'ecosistema inserito in Costituzione è un primo passo rilevantissimo. Così come è rilevantissima la modifica che consente di coordinare, e indirizzare l'attività, l'iniziativa economica per fini ambientali. Io credo che questo nel nostro mondo, nel mondo delle costruzioni, avrà degli effetti sulla discussione di importantissime leggi che si stanno discutendo proprio in questo periodo, in particolare sulla legge in materia di rigenerazione urbana, che sarà il primo campo di applicazione di questa riforma della Costituzione. Importantissimo il campo di applicazione pratico. La Costituzione ci affida un principio, ma poi sono le politiche di attuazione e di adattamento che saranno il vero campo di prova per verificare che questo principio sia effettivamente in grado di modificare il sistema delle regole che riguardano il comparto delle costruzioni. La legge sulla rigenerazione urbana dovrà dirci in che modo verrà misurata la protezione e la tutela dell'ambiente, in che modo verranno promossi gli ecosistemi e la biodiversità, e come l'iniziativa economica potrà essere coordinata per portare valore ambientale, valore sociale. È chiaro che qui è in discussione il mondo delle costruzioni molto di più inteso come capacità di trasformare l'ambiente nel quale viviamo, che non solo nel comparto edilizia e urbanistica nel quale per tanto tempo è stato concepito. Il mondo delle costruzioni costruire è un'azione profondamente politica e vedremo se all'opera dei fatti la capacità delle politiche di attuazione della riforma delle costituzioni saranno in grado di seguire le nostre aspettative, che sono certamente una riconfigurazione del settore verso valori di chiaro interesse pubblico, ambiente e società. Ma questo in concreto come si traduce? Una maggior premialità nel caso di appalti, gare pubbliche, una necessaria certificazione di sostenibilità dei processi? Cosa potrebbe succedere? Io credo che si configurerà una nuova qualità di impresa. Le imprese per essere premiate dovranno dimostrare di attuare e rispettare i principi contenuti nella Costituzione. Questo significherà per esempio che le premialità costruite all'interno delle gare pubbliche per scegliere il migliore offerente sicuramente dovranno tenere conto della capacità di quella specifica impresa di rispettare nel ciclo produttivo, nell'apportare valore con l'attività economica la tutela dell'ambiente e i principi di sostenibilità. Per esempio le certificazioni che attesteranno questo sono sicuramente uno strumento che io mi aspetto di vedere in uso massiccio da parte delle amministrazioni nelle gare pubbliche perché sono anche un criterio oggettivo di misurazione di questo valore dell'impresa. E poi io credo ci sarà lo spazio per migliorare anche i sistemi di controllo della filiera del ciclo produttivo, tutti coinvolti nella produzione di valore attraverso sistemi capaci di generare prodotti, flussi di produzione, metodologie di lavoro che tengano conto della necessità di tutelare l'ambiente. Quindi io mi aspetto una filiera di collaborazione impegnata nella promozione di pratiche sostenibili in materia ad esempio di economia circolare. Credo che questi siano decisivi. Non mi aspetto solo incentivi legati all'efficientamento energetico degli edifici ma mi aspetto che si vada a guardare l'intero processo costruttivo per premiare quelle imprese che siano in grado anche di garantire delle tecniche di riciclo, delle tecniche di recupero e mi aspetto che le imprese comincino seriamente o chi lo ha già fatto proseguono ad investire in innovazione. Ovviamente questo ha degli equilibri molto delicati specialmente nel settore delle PMI che il nostro legislatore non può certo dimenticarsi. E a proposito di non dimenticarsi di aspetti importanti come spesso succede, i cambiamenti portano anche un aumento dei costi. È possibile anche in questa situazione? Sì, credo che ci sarà un tema legato all'aumento dei costi che dovrà essere ragionato rispetto al principio di concorrenza. Mi spiego. È chiaro che abbandonare le tecniche tradizionali di produzione richiede di investire in innovazione, di investire in nuove procedure, di investire anche in nuove figure professionali. E così sono costi diretti. Poi ci saranno i costi indiretti, per esempio quelli, lei le menzionava prima, legati alle certificazioni o alla dimostrazione di essere un'impresa qualitativamente capace di produrre valore ambientale. Ecco, siccome questi costi sono inevitabili, credo che il legislatore si debba occupare anche di settare i costi con delle premialità che non rendano patrimonio di pochi la possibilità di essere soggetti performanti sulla tutela dell'ambiente. E questo, secondo me, è fondamentale nel contesto delle costruzioni dove, come tutti sappiamo, la presenza di piccole e medie imprese è predominante. Quindi, verso questi soggetti, io credo, si debbano ragionare degli investimenti e delle premialità che consentano di rendere concorrenziale anche l'azione di impresa con qualità ambientale. Ma ci sono altre soluzioni per venire incontro e supportare le tante PMI del Paese che dovranno affrontare questa trasformazione? Io credo di sì, nel senso che un percorso che mi sembra particolarmente interessante è quello di considerare come parte della remunerazione proprio la capacità delle imprese di realizzare quegli obiettivi di tutela dell'ambiente che si pongono quando vengono selezionate per un certo appalto, per un'operazione di rigenerazione piuttosto che per una demolizione di costruzione. Ecco, l'impresa che produce valore ambientale, che si impegna a produrre valore ambientale e che è disponibile alla misurazione di quell'impegno che ha assunto dovrebbe essere remunerata per la capacità di produrre quel valore. Quindi una remunerazione aggiuntiva che va oltre al costo dell'opera che combina lo sforzo dell'impresa e l'utilizzo qualitativamente superiore che il committente potrà ottenere di un'operazione di rigenerazione che crea un contesto, un ambiente costruito compatibile e capace di promuovere il valore dell'ambiente. Stesso ragionamento si può fare anche con il valore sociale ma in sintesi, combinando la misurazione di quello che è prodotto e l'impegno profuso, premiarlo, pagarlo, consentirebbe anche alle PMI di essere competitive in questo mercato. Grazie a tutti.